Ciao ragazzi, oggi parleremo di un nuovo argomento. Maestra, maestra, qual'argomento? La digestione. Per spiegarvelo meglio, andremo in laboratorio. Adesso vi spiego il percorso del cibo. Passa per la bocca che lo taglia, la lingua lo mischia con la saliva. Poi il cibo passa per l'epiglottide che lo fa andare nell'esofaco, che porta il cibo nello stomaco. Oh, è tardi, il resto della relazione lo faremo in mensa. Dove eravamo rimasti? Ah, sì, dallo stomaco. Il cibo passa nell'intestino che lo riduce in una poltiglia chiamata chimo. Dopo passa nell'intestino tenue. Com'è buono questo pranzo? Ah, scusate. In cui viene diviso in grassi, zuccheri e proteine. Maestra, dove finiscono gli scardi? Grazie. 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 Grazie.